dedicato audi q5 top di gamma android 12 8 giga di ram 256 giga di rom apple carplay android auto tutto in wifi la nuova grafica dedicata audi dashboard dove il cliente potrà gestire i vari colori e impostazioni ritorniamo a red gestione audio e video tramite le usb recupero comandi al volante come vedete torniamo indietro e possiamo andare in gestione video dopo qualche secondo andranno via le scritte e potete gustare il video ovviamente sempre attenti concentrati sulla guida questo intrattenimento per i passeggeri possiamo usare anche il joystick qui tutte le funzioni originali rimangono come vedete sto usando il joystick dsp processore sonoro questa è la funzione apple carplay android auto tutto senza fili poi il cliente potrà accedere al play store e scaricare tutte le altre app android youtube se vogliamo andare le funzioni originali semplicissimo siamo nelle funzioni originali qui siamo nella radio o ciò non toglie che potrà fare tutte le funzioni che sono in essere perché vengono recuperate sono tutte queste ovviamente potrà usare sempre il joystick abbiamo installato anche la retrocamera una retrocamera 2k la state vedendo qui abbiamo la retrocamera con la funzione sensori di parcheggio usciamo dalla retrocamera ovviamente la retrocamera funzionerà anche in android abbiamo switchato in android e andiamo a mettere la retrocamera vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili verso il nostro shop grazie e un saluto a tutti voi